Parliamo di antispreco perché, lo sapete, in ristoranti a volte si lascia nel piatto una cattiva abitudine di lasciare nel piatto il cibo oppure nel vino, magari il vino che costa anche poi si lascia al ristorante e viene buttato via. In questo caso in America la chiamano doggy bag, la borsa per il cane, anche se poi se ne approfittarne anche l'uomo. Questa volta i commercianti bergamaschi ne avranno 50.000 gratis da regalare proprio agli avventori di loro ristoranti. Eccola la doggy bag bergamasca. Si tratta di una scatola di cartone che permette al cliente di un ristorante di portarsi a casa il cibo o il vino non consumati. L'ASCOMO ha organizzato la presentazione e la consegna gratuita delle scatole ad una cinquantina di ristoratori, un modo per far arrivare anche nella nostra provincia questa usanza che anticipa la giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio. Secondo la Col di Retti, solo un italiano su tre quando esce dal ristorante si porta talvolta a casa agli avanzi, mentre il 18% lo fa solo raramente. Negli Stati Uniti questa usanza risale addirittura agli anni 40 e dei prassi naturale. In Francia è stata fatta perfino una norma che obbliga i ristoranti con più di 180 posti a sedere ad avere in dotazione la doggy bag. A Bergamo quest'usanza è ancora rarissima. Questo è un oggetto che è frutto di un progetto importantissimo per sensibilizzare i nostri clienti ma soprattutto perché anche noi ristoratori sappiamo che cosa significhi non sprecare. Abbiamo raccolto un bel numero di adesioni di ristoranti che contribuiranno a fornire questo rimpiattino alla doggy bag tutta bergamasca in questo caso per le persone che vogliono in qualche misura portare a casa quello che non hanno consumato al ristorante. Partiamo con già un gruppo abbastanza numeroso, siamo tra i 40 e i 50 ma l'idea è di estendere sempre di più anche ad altri questo comportamento virtuoso che va nella direzione di sostenibilità dell'ambiente e in generale della lotta allo spreco.